Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questo nuovo video, questa volta dedicato alla seconda versione alpha di Cosmic Desktop Environment. Il Desktop Environment scritto in Rust da Sys76, pensato inizialmente per equipaggiare PopOS, ma che nel corso degli ultimi mesi da quando è stato lanciato, ha riscosso un così grande successo nel mondo degli utenti Linux e che è stato portato praticamente su tutte quante le principali distribuzioni, quindi possiamo installarlo su una qualsiasi distribuzione basata su Debian, su una qualsiasi distribuzione basata su Fedora e Red Hat e possiamo installarlo ovviamente su qualsiasi distribuzione basata su Arch Linux. Ovviamente la distro direzione per Cosmic Desktop Environment è PopOS, la distribuzione sviluppata da Sys76 ed è la distribuzione che io sto utilizzando per provare Cosmic Deck. Io lo sto utilizzando praticamente dalla prima versione alpha e ogni giorno mi innamoro sempre di più di questo Desktop Environment che è un Desktop Environment alla GNOME, come potete vedere, però pensato per funzionare bene, pensato per essere ottimizzato nelle prestazioni, pensato per aggiungere funzionalità utili all'utilizzo desktop quotidiano, quindi con scorciatori rapide, con possibilità di utilizzarlo facilmente con il punto e clicca, con le icone negata che sono presenti, ma con una serie poi anche di ottimizzazioni all'interno delle schermate delle opzioni, funzionalità interessanti all'interno delle varie applicazioni del Pantheon, delle applicazioni di Cosmic Desktop Environment. Insomma, i ragazzi di Sys76 stanno facendo un lavoro incredibile, un lavoro enorme, e stanno facendo veramente, stanno creando veramente un Desktop Environment completo, prestante e chi più ne ha più ne metta. Io lo do, si capisce che lo do, mi sembra di, forse non si capisce abbastanza che lo do, vabbè. Ovviamente è stata rilasciata questa seconda versione Alpha di Cosmic, e se ancora non l'avete fatto, potete scaricare la nuova ISO di PopOS contenente la seconda versione Alpha di Cosmic, e godervi appena di tutte quante le novità che vi andrò fra poco a mostrare. Se invece, come me, avete già installato la versione Alpha iniziale di Cosmic, Queste novità non sono novità, diciamo così, perché avete avuto modo di provarle, di apprezzare con gli aggiornamenti che sono arrivati nel corso delle settimane, dal rilascio della prima versione Alpha sino ad oggi. Ma vediamo quali sono le novità di questa seconda versione Alpha di Cosmic. Novità che riguardano principalmente le impostazioni di sistema, con delle nuove pagine di impostazioni e quant'altro, e principalmente files, il file manager che è stato ulteriormente potenziato e che ci dà anche un'anteprima di quelle funzionalità che arriveranno fra non molto. Ma andiamo con ordine, andiamo a vedere le impostazioni di sistema, perché sono state aggiunte diverse impostazioni nei vari menu con nuove funzionalità che possono essere molto utili e interessanti. La prima, il primo pannello che è stato ridisegnato e che sono state aggiunte delle funzionalità è il pannello che riguarda alimentazione e batteria. Ovviamente in questo caso io sto registrando il video su un desktop environment e quindi queste impostazioni potrebbero essere poco interessanti. Abbiamo una power mode, cioè è possibile scegliere il profilo energetico, quindi è possibile impostarlo su bilanciato, che è il default, è possibile attivare alte prestazioni, quindi aumentare le prestazioni, ma anche i consumi energetici. È molto utile se ci troviamo su un laptop, è possibile estendere la durata di vita della batteria, quindi riducendo il consumo energetico e diminuendo anche le ventole, la velocità delle ventole per rendere il sistema più silenzioso. Ed è stata aggiunta poi un'altra funzionalità che io non vi posso mostrare in questo momento perché non ho nessun dispositivo compatibile, ma che vi mostro grazie all'usilio degli screenshot postati dalla System76 sul proprio sito, è la possibilità di andare a visualizzare il livello della batteria di tutti quanti quei dispositivi wireless che noi andiamo a connettere, quindi mouse, tastiere, cuffie, chi più ne ha più ne metta. Ottima, ottima cosa. Impostazioni audio. Anche le impostazioni audio hanno avuto molta attenzione nel corso delle ultime settimane con gli ultimi aggiornamenti. Andiamo a vedere le impostazioni audio che si trovano sotto la voce suono. Possiamo gestire ovviamente il volume di output e il volume di input, quindi andare a gestire il volume delle casse e il volume del microfono. È possibile ovviamente selezionare quale dispositivo utilizzare. Nel caso mio per esempio vi faccio vedere. È possibile selezionare la scheda audio integrata oppure utilizzare l'audio gestito dalla scheda video Nvidia HDMI. E poi troviamo anche una serie di profili audio che possiamo andare a selezionare qui. Troviamo una serie di settings preimpostati. Troviamo poi anche la possibilità di avere il supporto per i dispositivi Bluetooth anche nelle impostazioni audio grazie a BlueX 5. Quindi se avete un dispositivo Bluetooth per l'audio, per gestire l'audio nelle casse Bluetooth, è possibile gestire il tutto da qui. Ovviamente sono state fatte alcune modifiche anche per quanto riguarda la sezione rete wireless, che è una delle sezioni più importanti all'interno di un computer, perché se non ci connettiamo alla rete che ci facciamo con il computer? Qui possiamo vedere, abbiamo la sezione riguardante la scheda Wi-Fi, quindi con tutte e quante le reti ci possiamo connettere, disconnette, dimenticare e quant'altro. Qui, nel caso in cui ci connettiamo tramite cavo di rete, è poi possibile gestire la connessione VPN impostandola direttamente da qui. Io utilizzo NordVPN e NordVPN, ve lo dico fin da subito, si integra perfettamente nel sistema, quindi se agganciate NordVPN su Cosmic Desktop e Variant, ne avete anche riconcina nella try, cosa che su Glomer ce la sogniamo. Glomer, vedi, ti perdi un bicchiere d'acqua. Mentre System76 fa le cose per bene. Vabbè, diretti una d'orecchia al gnome che non fa mai male. All'interno della gestione degli schermi è stata poi aggiunta una funzionalità che strizza l'occhio ai gamer, ovvero la possibilità di effettuare la renderizzazione delle applicazioni X11 alla risoluzione nativa. Spuntando questa voce è possibile, praticamente, sui monitor HDPI avere, sfruttare la risoluzione completa del monitor per i giochi. Quindi, anche un occhio di riguardo per i gamer, che non fa mai male. Brava, System76. Cosa che non ho capito perché l'hanno aggiunta, però forse perché non so chi l'aveva richiesta. All'interno delle impostazioni della data e ora è stata aggiunta una possibilità per mostrare i secondi qua sopra nella barra dell'orologio. Vabbè, è una cosa carina, che è stata aggiunta all'interno delle impostazioni. Questa non l'ho capita. Veramente, vi piace vedere il countdown dei secondi qua sopra? Oh beh. Impostazioni adesso della... Vabbè, gestione delle impostazioni delle finestre. Qui troviamo anche delle novità interessanti. Allora, andiamo su Desktop, andiamo su Gestione Finestre e qui troviamo tre novità principali. La prima novità che troviamo è la gestione del tasto super. Allora, vi faccio vedere. Praticamente, voi di default su Cosmic Desi, premete il tasto super, quello di Windows, per interderci. Di default si apre questa modalità, si apre Launcher per cercare applicazioni, fare cose e quant'altro. Possiamo impostare che si aprono gli spazi di lavoro, possiamo impostare che si apre il menu applicazioni e quindi queste cose erano già presenti. Adesso è stata aggiunta anche una nuova voce, disabilita, cioè se noi clicchiamo il tasto super, non succede niente. È stata richiesta da diversi utenti e esistono tante serie accontentati. Troviamo poi qui, sempre, un nuovo sottomenu che ancora non è stato tradotto. Luca, se mi stai ascoltando, vai a tradurre. Luca, sapete bene, è un autore di Marcos Box e si sta dedicando a fare le traduzioni di Cosmic. Quindi vai ad aggiungere le traduzioni in tutte queste nuove funzionalità. Allora, queste sono funzionalità utili principalmente da chi utilizza anche schermi molto grandi, chi si muove con la tastiera e quant'altro. La prima funzionalità è Focus segue il cursore. Andando ad attivare, cosa succede? Come potete vedere, se io mi sposto con il mouse su una qualsiasi finestra, quindi va a mettere il focus, va a caricare, a mettere in più propria la finestra sotto il mouse. E quindi, utilissimo se noi lavoriamo in velocità. Vedete, se abbiamo tante finestre aperte possiamo passare a switchare rapidamente. Quindi è una funzione interessante. Troviamo poi la funzione Cursore segue il focus che invece fa una cosa un po' diversa. Sia quando ci muoviamo, che andiamo a selezionare le finestre, che quando andiamo ad aprire una nuova finestra. Vedete che cosa vi fa? Se io vado ad aprire una nuova finestra, vi mette automaticamente il mouse in alto a sinistra. Quindi vi va a fare il focus sulla finestra e vi porta il mouse in alto a sinistra. Che può essere utile, da quel che ho capito, per tutti quanti quegli utenti che utilizzano molto le scorciatoie da tastiera. Ci sono poi nuove impostazioni per quanto riguarda la densità dell'interfaccia. Adesso ve le faccio vedere. Dobbiamo andare sempre sul desktop. Andiamo adesso su Aspetto, mi diventi ogni tanto di menu, e cliccando qui, andando qui nella parte in basso, Interface Density. Questa è il default, cioè confortabile. Se andiamo a mettere Compact, si riduce il tutto. Se mettiamo Spazio, si ingrandisce il tutto. Quindi tre settaggi per andare giusto al volo ad andare a impostare la densità del testo, del carattere, insomma, di tutto quanto quello che andiamo a visualizzare nelle impostazioni. Se vedete una cosa diversa rispetto alla vostra installazione di Cosmic, io ho tolto, diciamo così, l'aspetto arrotondato dei pulsanti del menu, io ho attivo di default quello leggermente arrotondato, che mi piace di più. Qui è possibile cambiarlo, giusto una cosa che... Vi dico così, giusto per farvi capire che potenzialità di personalizzazione, di Cosmic Deck. Posso personalizzare tantissime cose. E non è ancora finito il cambio di detection, quindi vi lascio immaginare. Impostazioni Bluetooth. Qui è possibile connettere, disconnettere, e dimenticare i dispositivi nella pagina Bluetooth delle impostazioni. Vi faccio vedere lo screenshot. Quello fornito da Sys76, perché non mi va di collegare tramite Bluetooth il telefonino in questo momento. Sono piccolo. Comunque, qui possiamo gestire tutti i dispositivi Bluetooth collegati. E passiamo adesso a Cosmic Files, cioè il file manager di Cosmic, perché vedete le novità interessanti. Allora, innanzitutto, la prima cosa che vi salta a coca, se lo vedete, è stata aggiunta la possibilità di vedere, di montare i volumi di rete. Quindi è possibile montare i volumi di rete direttamente dal file manager. Un'altra cosa che è stata aggiunta, ve la faccio vedere subito, andando su Immagini, che ne so, selezioniamo questa immagine, e possiamo vedere l'anteprima. L'anteprima che possiamo vedere anche... Sì, io la chiudo questa qua. Sì, io premo la... la barra spaziatrice, vi si apre questo pannello laterale. Abbiamo poi un'altra cosa che è stata aggiunta. Cliccando qui, possiamo vedere una... una galleria, ecco. Chiamiamola così, tutti quanti i file immagini che presenti nella nostra cartella, che possiamo andare a scorrere con le tasse direzionali, oppure con il mouse. Quindi, è una cosa interessante che è stata aggiunta... che è stata aggiunta direttamente a Files, Troviamo poi tante altre cosigni e quali la... Andatevi a leggere tutte le impostazioni che sono state modificate. Quindi, anche in questo caso, stanno facendo un grande lavoro. Anche la possibilità di gestire i file compressi e quant'altro. Fra poco arriverà anche il supporto per i file zip codificati con password. Quindi, ottimo lavoro che stanno facendo. Ovviamente troviamo miglioramenti anche per quanto riguarda Cosmic Store, che già era di veloce di su, adesso ancora più veloce nell'apertura. E troviamo anche miglioramenti per i Cosmic Applets, quindi il supporto delle solite di carica della batteria sui dispositivi supportati da System76 Power, l'utilizzo della CPU migliorato, adesso l'ora si aggiorna con il cambio del fuso orario, migliorato il formato dell'ora visualizzata. E ci sono poi una serie di correzioni che vi invito a leggere nel comunicato stampo ufficiale di Cosmic, di System76, correzioni di bug, ottimizzazioni, bug che sono stati corretti per quanto riguarda XWayland, quindi una cosa che è molto importante per il futuro del desktop Linux, rendering del test avanzato, supporto per gli screen reader, che è cosa molto importante, cosa molto richiesta, miglioramenti in Cosmic Creator, insomma, hanno fatto davvero tanta, tanta, tanta ottimizzazione, stanno introducendo tante funzionalità interessanti. Fate avere la partizione, se potete, con PopOS, con Cosmic, seguite lo sviluppo, è davvero interessante, sta facendomi tornare la scimmia, l'entusiasmo nei confronti del desktop environment Linux, e vabbè, io lo adoro, io lo sto adorando. Provatelo, lo adorerete anche voi, come dice quella pubblicità che sta girando recentemente, quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Ecco, provate Cosmic e vi innamorerete. E con questo è tutto, ci aggiorniamo prossimamente con le prossime novità dal mondo di Cosmic, dal mondo di SIS 76, perché lo sto seguendo, quindi vi aggiornerò sia sulle pagine del blog che sul canale YouTube. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.